Over It vuol dire 3D, realtà aumentata, una tecnologia avanzatissima che esporta il Friuli Venezia Giulia addirittura oltreo cerno. Sicuramente un'eccellenza del nostro territorio, è una società ormai affermata con una realtà occupazionale molto importante non soltanto in Friuli Venezia Giulia ma direi in giro per il mondo ma soprattutto è un'eccellenza perché sta lavorando in un settore quello della realtà aumentata ma anche di Information Technology che riguarda altri settori nei quali siamo sostanzialmente i primi e quindi credo davvero che sia importante non soltanto per il nostro territorio ma anche per realtà di questo tipo essere presenti ed essere sempre più forti in mercati molto complessi.